non lo so perché sono sceso così qui sicuramente c'è qualcuno c'è ancora qualcuno eccolo infatti ma cazzo pigliata bacio di sotto e sotto in un ufficio ma andrata in questa casa qua sono sicuro non mi serve una mitraglietta ma andrata in un ufficio in un ufficio ma andrata in un ufficio 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 Sì 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 Sì